Buonasera a tutti amici partner ospiti di questo webinar di oggi mi chiamo Ivanova e Caterina e stasera cercheremo di capire come possiamo cambiare la nostra vita con gli strumenti di S Group, fondo di investimento britannico. Innanzitutto dobbiamo capire perché investire. Se siete qua oggi penso che un'idea ce l'avrete già. Investire per avere più libertà, più tempo, più indipendenza per diventare ricchi alla fin dei conti o per trasferirsi magari ai Caraibi una volta andati in pensione. Insomma, infine avere una speranza per un futuro migliore. E' importante vero che sapere che nei prossimi due o tre anni la vostra posizione finanziaria cambierà e vi permetterà di avere le cose che ora non potete permettervi magari. Qualcuno dirà eh ma due o tre anni è lunga. Giriamoci indietro. Cos'è che è cambiato nella vostra vita negli ultimi due o tre anni? Bene. Quindi oggi non parleremo delle cose magiche del settore fantasy, ma bensì di strumenti utili, una vera propria istruzione nel settore delle finanze. Sì, per avere una stabilità economica bisogna studiare, impegnarsi e voi lo sapete bene perché penso che nella vita avete già imparato a guadagnare i soldi. Adesso dobbiamo imparare a conservarli e a moltiplicare. Allora, quindi guardate quanti tipi di investimento ci sono. E sì, per ognuno di questi ci vogliono determinate conoscenze. Poi ci sono diversi tipi di persone che hanno già il capitale e per loro è più facile avere la rendita passiva. Basta trovare un fondo la compagnia giusta, oppure ci sono quelli che pensano che per investire ci vogliono troppi soldi, gli investimenti, pensano che gli investimenti sono fatti, non sono fatti sicuramente per loro, perché ci vogliono troppo dinaro, perché non hanno abbastanza conoscenze, eccetera, eccetera. Ecco, oggi troveremo una soluzione per tutti. Quindi, voglio raccontarvi cosa ho scelto io e altri 120.000 investitori. Adesso qui ci sono 115, ma ad ora, perché crescano costantemente, molto velocemente, ad ora contiamo 120.000 investitori attivi. e racconterò anche perché. Quindi, parliamo un attimo che cos'è S-Group. S-Group è un gruppo di persone giuridiche, ognuna di quali corrisponde alla propria direzione. Ma dove è cominciato tutto? Vediamo un po'. Tutto quanto è cominciato nel 2019, precisamente a ottobre, quando i ragazzi hanno deciso di creare questa compagnia e hanno fondato una base solida, cioè registrazioni, tutta la documentazione, perché l'idea era avere una piena trasparenza in tutto ciò che fa. E quindi è stata fatta una registrazione a Londra, come potete vedere qua è solo una foto, però voi non dovete credere alle foto, non dovete credere a quello che vi dicano nell'internet, vi fanno vedere le immagini, belle cose. Dovete controllare tutta l'informazione personalmente. e per farciò potete andare nella Camera di Commercio di Londra, cioè di Gran Britannia, e controllare personalmente i dati di cui vi sto parlando ora. Quindi cosa possiamo vedere qua, in questa registrazione qua? Che è Sensor Systems Group. Ha dichiarato delle certe attività, che corrispondono a quelle che stiamo facendo effettivamente, che sono attività nel settore della tecnologia dell'informazione, attività di fondi di investimenti, attività di società di investimento aperto, gestione dei mercati finanziari. Sono dichiarate tutte queste attività, perché la compagnia in futuro li farà tutti, però cresciamo piano piano e per adesso ne facciamo solo alcune. Poi, per avere un futuro e prospettiva, la compagnia ha messo il capitale sociale, i 5 milioni di sterline, che potrebbe essere abbastanza di dichiararsi una banca. Un'altra cosa di valore e ha un criterio di affidabilità è una registrazione nel GLEF, che è avere un codice LAI. Più precisamente io raccontavo nelle altre presentazioni cosa vuol dire che tutte le compagnie finanziarie che vogliono avere trasparenza, che vogliono avere a che fare con tutte le altre compagnie, cioè essere internazionali per essere più facilmente trovate in tutto il mondo, devono avere questo codice e quindi questo è già un criterio di affidabilità e un fattore che ci fa vedere che la compagnia cerca di guardarsi il futuro per avere le prospettive a lungo termine. La missione di S-Group è creare un ecosistema finanziario globale che consentirà a ciascun partner di utilizzare i servizi innovativi e trarne profitti. Adesso andiamo un pochino avanti e vediamo che direzione abbiamo scelto per investire. Ci sono direzioni di investimento, che qua vedo anche le scritte un po' confuse, dobbiamo comunicare all'ufficio tecnico, e poi altre che non sono di profitto, ma sono per esempio le attività di beneficenza, che possiamo aiutare altre persone, e di istruzione. Quello che riguardano gli investimenti è S-Forex, che è trading, adesso andiamo a vedere ognuna di questi, S-Farmaceutical, S-IPO, e la nostra Finance Ecosystems, che andiamo a vedere tutto, tutto, tutto nell'Italia. Invece, velocemente, ma passiamo tutti. Comunque, comincieremo dall'estrating, che si svolge su Forex. Perché su Forex? Perché Forex è un mercato globale, molto grosso, molto voluminoso, dove il volume d'affari è all'incirca di 6 trilioni, come si chiama? Sì, al giorno, praticamente. Quindi, è un mercato molto voluminoso, e anche se c'è dove si fanno gli affari tra i paesi, non più tra le persone, ma dove le persone possono avere la possibilità di guadagno. Quindi, però, in questo mercato qua, capiamo che non tutti possono entrare, e giocatori piccoli, piccolini, come persone fisiche, possono facilmente perdere i soldi. Cioè, bisogna anche qua essere capaci e avere tante conoscenze. Perciò, qui subentrano gli algoritmi, gli algoritmi informatici, i robot, che sostituiscono il trading manuale. E quindi diventa una cosa più facile da gestire su Forex. Ma cosa ha scelto la nostra compagnia? Ha scelto non solo usare questo robot, ma un robot con i neuroretti, l'intelligenza artificiale. Sapete bene adesso che tutte le cose che... Cioè, anche in medicina, sì, nella programmazione, in tutte le cose si usa sempre di più l'intelligenza artificiale. Quindi, ci sono i vantaggi nell'usarla. Ma non tutti gli algoritmi e le neuroretti sono affidabili e di buona qualità. Quello che abbiamo scelto noi, cioè S-Group, è un programma costruito da una compagnia americana, DDS, che è da molti anni presente sul mercato. e questo algoritmo non si vende, ma si può affittare quello che stiamo facendo noi insieme a tante altre banche che possiamo vedere qua, tra cui conosciamo anche noi, cioè BNP Paribas, Credit Agricole e certe banche americane, tra cui, vedete qua, siamo anche noi come partner di questa compagnia che ci affitta questo algoritmo. Quindi, qual è la proposta di investimento alla fine? Qui possiamo vedere che in base a quanto capitale abbiamo da andare a lavorare possiamo avere i nostri guadagni. Si dividono le quote della divisione a quello che guadagniamo noi e quello che guadagna compagnia. Quindi, se noi ne abbiamo abbastanza capitale, mettiamo, per esempio, subito 5.000 dollari che qui parliamo in dollari la nostra divisione le quote della divisione del guadagno saranno 70-30 quindi noi prendiamo 70% da ogni dollaro guadagnato e la compagnia si prende 30% per i servizi forniti. Se noi abbiamo 10.000 già da investire la nostra quota del guadagno sarà del 75% e la compagnia si prende 25%. Così, se noi abbiamo 50.000 da investire subito prenderemo massimo della quota del guadagno 85% di tutto quello che è guadagnato tutti i giorni cioè, in tutti i giorni ogni dollaro sarà diviso in questo modo 85% vostri 15% della compagnia. Quindi oppure se noi non abbiamo questo capitale dobbiamo avere molta pazienza e costanza nelle nostre azioni. Io all'inizio ho detto che qui troveremo soluzioni per tutti oggi. Quindi possiamo cominciare con 100 dollari e poi aggiungere mensilmente 100 dollari ogni mese fino ad arrivare lo stesso dopo un po' di tempo ovviamente ma comunque ha un buon risultato per avere una rendita passiva che ci aggrada. poi c'è un'altra cosa che ci aiuta a accumulare questo capitale molto più velocemente ripassiamo un attimo qua vediamo tutta la statistica di tutti questi anni che algoritmo lavora per noi che sono già 1,2,3 pieni e anni di prova prima di proporci ogni cosa i fondatori di compagnia testano ogni direzione provano se funziona se può andare bene e dopo di che ci propongono a noi e qui vediamo come il nostro algoritmo impara e studia tutto quello che sta facendo e man mano si stabilizza nel guadagno vediamo benissimo che qua non c'è stato mai un giorno negativo cioè non parliamo di mesi ma neanche un giorno io posso garantirvi perché io sono qua dal 2020 quasi praticamente dall'inizio non ho mai visto un giorno negativo sì c'erano dei giorni molto piccolini però comunque erano positivi il guadagno c'era tutti i giorni tranne sabato domenica che Forex va a riposare e non non prendiamo il guadagno quella cosa che io volevo dirvi che ci aiuta a costruire questo capitale man mano che rimane lì è l'interesse composto questa sì che è una magia una ottava meraviglia del mondo prendiamo questo esempio di 5.000 come funziona tutti i giorni voi mettete il vostro capitale a lavorare oggi domani ha guadagnato una certa cifra e questa cifra si aggiunge al vostro capitale iniziale domani va a lavorare aumentato e così tutti i giorni via per mese per mese e vediamo qua se guardiamo per i mesi se dai 5.000 noi abbiamo guadagnato in un mese 336 dollari circa mese prossimo vanno già vanno già a lavorare 358 cioè mese prossimo guadagneremo già non 336 dollari ma 358 perché la cifra del mese prima si è aggiunta tutto alle capitali iniziali e così via dopo un anno i vostri 5.000 diventano 10.000 che non sarebbe possibile senza questo interesse composto ok così in 3 anni potrebbe arrivare a 62.000 ma tutto questo dipende dalla percentuale che noi guadagniamo tutto il mese che il nostro robot ci porta tutti i mesi qui vediamo una statistica media che nell'anno scorso per esempio la percentuale era 9% 60 e fino adesso nei mesi del 2023 9,30 però la statistica la faremo alla fin dell'anno quindi qui i conti sono stati fatti non so dalla quale percentuale comunque il procedimento è questo per farvi avere un'idea cos'è che non abbiamo detto ancora qua sul forex vediamo un po' per ricapitolare se si capisce tutto bene questa cosa qua quindi se la nostra percentuale 9% a virgola 60 al mese dai 100 ai 500 dollari la nostra percentuale pulita mensile sarà di 4,80% puliti che noi prendiamo qui devo mettere ancora una cosa molto importante si può scegliere togliere prelivare percentuale vostre di guadagno tutti i mesi oppure lasciarla lì e appunto attivare questa ottava meraviglia del mondo che si chiama l'interesse composto così vediamo che c'è questa scaletta qua che potete vedere anche voi non allunghiamo tantissimo ma vediamo che se voi avete un capitale di 50.000 dollari la vostra percentuale pulita mensile sarà di 8% circa quindi 8% puliti al mese voi potete prelevare oppure lasciare lavorare avanti e far funzionare la percentuale composta comunque andiamo avanti nell'altra direzione che financial ecosistem che è il nostro portafoglio e il nostro sistema cripto quindi cosa abbiamo qua abbiamo un token svct che si traduce come liberamente convertibile token che ci dà la possibilità di conservare i nostri soldi in totale sicurezza allora un secondino solo quindi spiegando in due parole semplici nel mondo moderno ci sono diversi tipi di conservazione dei propri beni qualcuno li tiene nei metalli preziosi qualcuno compra immobile eccetera eccetera qualcuno le azioni e altri tengono nelle valute fiat normale più popolare dollari euro eccetera poi qualcuno li tiene nelle criptovalute che sarebbe più logico tenerli in stable coin tipo USDT ma anche avendo tutti questi modi di conservazione hanno alcuni momenti di rischio cioè come tutte le cose insomma tutti questi beni possono essere diciamo nazionalizzati oppure comunque diciamo che tutti possono avere il modo di arrivare a questi soldi che non si può succedere se noi li teniamo in questi token qua perché non sono legati a nessuna valuta ma hanno il valore pari a un dollaro adesso ma si possono legare anche ad altre valute in futuro se dovesse succedere qualcosa che adesso si parla tantissimo default dei dollari eccetera non succederà mai però se dovesse mai succedere si può tranquillamente legare a un'altra valuta ma questo token voi potete tranquillamente in ogni momento scambiare in un'altra valuta cioè convertire in tutto quello che volete direttamente nel nostro portafoglio per esempio qui abbiamo tutte le tutte le prospettive della moneta però adesso non ci si fermiamo un attimo perché la presentazione generale che qui voglio soltanto farvi capire che esiste una parte cripto che senza questa non esiste ormai più quasi niente c'è sempre una cosa che si svolge si evolve molto rapidamente e prende sempre più piede quindi noi abbiamo questo portafoglio dove possiamo conservare trasferire scambiare il denaro tra cui il nostro svct token in ogni altra valuta che si trova nel portafoglio e possiamo fare anche tantissime altre cose in futuro ma anche adesso già ci sono per esempio espad che ha preso ha cominciato a funzionare però comunque queste cose qua poi li guarderemo molto più profondamente nella presentazione che sarà legata proprio a questa parte qua questa direzione qua che adesso qui vediamo abbiamo anche il scripto liquidity mining che è una direzione che ci aiuta a minare la moneta la moneta della nostra exchange di cui parleremo adesso qui sono tutte le cose che riguardano a questa ok poi abbiamo un'altra direzione che è SIPO che tra l'altro adesso non ci si fermiamo tanto perché ci sono tantissime novità su questa direzione adesso parlerò nella sezione novità quindi dico solo due parole che è una cosa che si investe una gestione fiduciaria come con Sforex qui invece abbiamo una vera propria borsa che si investe nelle start-up nelle azioni che un team di professionisti gestisce il vostro denaro poi abbiamo un'altra direzione molto 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 interessante che è S Pharmaceutical che funziona già ci sono due pool però in questo momento non si può investire ma è una direzione molto 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 diciamo che con cui si può diventare miliardari purtroppo adesso non si può investire si tratta di produzione marchio vendita integrazione verticale completa di tutto ciò che riguarda la cannabis medica e prodotti tra cui tra l'altro la coltivazione della cannabis che andrà proprio direttamente per sostituire il principio attivo nei medicinali non possiamo farlo ancora adesso perché come ho già detto la compagnia fa tutto con la documentazione apposta e cose fatte molto bene precisi ma adesso vi sto raccontando questa cosa qua per farvi capire il potenziale di S Group di quello che è la grandezza e trasparenza professionalità perché per avere le licenze di questa direzione bisogna avere veramente tutto a posto perché non si dà a tutti quanti e ci vuole veramente tante esperienze tanti documenti tantissime cose che è difficile è un settore molto difficile ma molto profizio quindi andando avanti qui si abbiamo l'istruzione ok che potete dentro la compagnia imparare tutte le cose quelle che riguardano gli investimenti eccetera potete donare come ho già detto alle persone cioè diciamo animali insomma alle direzioni come direzioni mi suona la campana mi manda un po' la testa un attimino che smette comunque aiutare alle persone più bisognose una possibilità di donare gioia alle persone e poi in più c'è la programma di affiliazione fermiamoci un attimo qua perché possiamo guadagnare anche senza cos'è un programma di affiliazione e quando tu chiami qualcuno racconti a qualcuno che ti trovi bene e le persone vengono e quindi tu prendi una ricompensa questo è un programma di affiliazione che esiste adesso in tutte le banche dappertutto in ogni dove c'è anche qua ma fermiamoci un attimo su questo fattore qua che noi possiamo guadagnare tutti noi indipendentemente da quanto capitale abbiamo lo facciamo a pezzettini o lo facciamo per intero subito da subito mettiamo 100.000 dollari e cominciamo a prelevare tutti i mesi la nostra rendita passiva oppure prendiamo 100 dollari ogni mese aggiungiamo altri 100 per raggiungere la cifra che ci serve per avere la rendita passiva indipendentemente senza chiamare nessuno possiamo guadagnare o nell'SIPO o investendo nella cannabis o in tutte le direzioni senza chiamare nessuno guadagniamo lo stesso comunque perché c'è una reale attività e non dipende da quante persone abbiamo chiamato però abbiamo questa possibilità in più se noi chiamiamo le persone possiamo costruire un certo tipo di carriera e un business in più che ci permette di guadagnare più di quello che guadagniamo normalmente cioè normalmente dai nostri investimenti ok quindi se io magari non ho abbastanza capitale cerco cioè ho una possibilità di guadagnare in più chiamando altre persone e così il mio capitale cresce molto più velocemente ovviamente se io ho questo obiettivo di avere la rendita passiva di diventare ricca di creare un futuro migliore poi se io non ho questi obiettivi non me ne frega niente di chiamare nessuno però una cosa devo dire se io mi trovo bene se guadagno tutti i mesi ho un'entrata in più 1.000 2.000 dollari ma anche fossero 500 200 perché non devo raccontare ai miei parenti perché li voglio male perché voglio che mi invidiano giusto solo io posso avere i soldi non facendo niente qui ci sono altri livelli di carriera ok ma c'è da dire una cosa se noi sappiamo che i nostri guadagni supereranno una certa cifra dobbiamo abbonarsi annualmente a questo business quindi se io so che in questo mese guadagnerò più di 1.000 dollari non dai nostri depositi in tutte le direzioni ma lavorando con programma di affiliazione vuol dire che io mi devo comprare un abbonamento che pago una volta all'anno che mi dà diritto di ricevere i miei buoni referral 1.000 dollari al mese e così via se io so che al mese guadagnerò 3.000 devo comprare un abbonamento annuale di 300 dollari e così poi andando avanti una cosa molto importante voi direte ok ma come si prelieva come che condizioni ci sono dove ci sono non lo so le fregature diciamo che le fregature non ci sono ma ci sono giusti commissioni per il servizio che sarebbero per il deposito su Sforex la commissione per entrare affitto nel robot per entrare appunto sui broker il 5% dal deposito che dovete mettere in lavoro ok poi ci sarà una commissione annuale di 5% sempre dal corpo del deposito che si toglierà dal dodicesimo mese non dal corpo ma dal guadagno e poi 5% alla fine di un anno che il deposito ha lavorato non è che non si può prelevare prima di un anno si può però ci sarà una specie di multa cioè la commissione di 30% ok dopo 6 mesi la commissione sarà di 20% cioè potete prelevare il vostro deposito ma con una certa commissione di 20% quindi dopo 8 mesi la commissione diventa 10% e dopo 12 mesi e poi 5% questa è una commissione giusta per mantenere tutto quello sistema grosso compreso anche i premi di affiliazione in piedi perché la compagnia non nel suo bilancio non prevede andare sotto quindi deve guadagnare deve avere costantemente i soldi in più appunto per pagare tutte le cose per pagare tutti i premi non va mai sotto al bilancio al bilancio quindi qui cosa vediamo la compagnia pienamente trasparente mostra tutta la documentazione agli eventi più grossi mostra anche i conti dove sono su quali conti sono depositati tutti i nostri soldi come vanno a lavorare che effettivamente vanno a lavorare non solo a parole poi altra cosa che vediamo si conta bene il proprio budget e non va mai sotto al bilancio e vediamo anche il prelievo dagli altri fondi dagli altri direzioni scusate cioè dall'IPO sono più o meno lo stesso come il forex deposito della direzione liquidy mining sempre di 2% e mezzo dall'entrata e l'uscita invece saldo che potete avere i vostri primi referali o i vostri soldi liberi per esempio se voi non attaccate rinvestimento ma li prelevate tutti i mesi perché c'è la possibilità di attaccare auto rinvestimento che tutti i mesi si auto rinveste lavora appunto la percentuale composta alla fine del mese questi soldi vanno sul vostro saldo nel bilancio e potete prelevarli quei soldi lì voi potete prelevare quando volete senza commissioni cioè con commissioni delle piattaforme tramite cui preleverete 7 giorni sul 7 24 su 24 questi sono i risultati ma sono un po' vecchi ma adesso io vorrei che passassimo alle novità cos'è non c'era qua quali novità non c'erano qua ok si è aperto un pool nuovo che si chiama forex pro è un pool test che si può entrare partendo dai 5 mila dollari e solo avendo o 13% di carriera oppure 25 mila dollari sul deposito di Sforex normale questo si fa perché per appunto per il fatto che questo pool è in prova con i rischi aumentati e anche guadagno aumentato però possono entrare solo le persone che capiscano questo fatto che si può anche perdere e non si lamenteranno perché sanno dove vanno che poi magari le persone che sono appena entrate o non hanno ancora abbastanza fiducia potrebbero non capire questa cosa e quindi quando il periodo di prova sarà terminato magari condizioni saranno diverse per adesso dobbiamo capire come funziona e questa cosa qua non c'era in presentazione che nel futuro prossimo sicuramente la faremo poi cos'altro non c'era non c'era il fatto che a giorni aprirà la nostra exchange il scambio di criptovalute la piattaforma di scambio di criptovalute tutta nostra questo non c'era però esiste poi l'evento di Turchia che è stato adesso in questi giorni 8 dallo 9 e 10 8 e 9 maggio io non ho fatto in tempo a farvi una presentazione come si deve perché sono passati pochissimi giorni non c'è stato possibile a creare delle slide apposta però io mi sono precipitata di portarvi proprio queste novità perché sono fantastici e vi voglio raccontare ora quindi facciamo un po' un giro delle novità e poi magari io vi ho comunque preparato qua qualche fotina dall'evento per farvi vedere un po' più profondamente possiamo fare auguri ai 44 milionari che sono diventati milionari con aiuto della nostra compagnia esgroup 44 milionari e questa è una cosa molto impressionante quindi le novità quelle che abbiamo già parlato nella presentazione scorsa che la nostra exchange che aprirà a giorni doveva aprirsi proprio oggi domani tutta la struttura vostra se voi lavorate nel programma di affiliazione si dubblicherà e non dovrete registrare tutti i vostri partner da capo quindi automaticamente entrando in straight avrete tutta la vostra struttura già sotto di voi poi adesso io mi sono fatto due appunti così un po' di qua un po' di là chiedo perdono per questa cosa però avevo pochissimo tempo per raccogliere tutta l'informazione dall'evento la sto traducendo proprio al volo adesso ok quindi sono stati pagati a tutti gli investitori e partner 700 milioni di dollari tra premi e percentuali è una cifra molto importante comunque le novità su forex sappiamo che la cifra è diventata molto grossa e quindi i fondatori dell'esgroup hanno deciso di passare ai broker migliori cioè che hanno molti licenze poi si pensa adesso io sto parlando solo quello di cui ha parlato il vadim si pensa di adesso usiamo dei broker esterni quelli che sono mediatari tra noi e forex ma si pensa di creare il proprio broker per forex e quindi risparmiare sulle commissioni che ci sono adesso che le paghiamo agli altri broker poi si pensa sempre si pensa adesso non c'è ancora niente di fatto però si pensa che probabilmente ci saranno più di un pool su forex quindi uno di base che è stabile che abbiamo noi adesso quello normale poi magari uno più rischioso quello che adesso stiamo testando Sforex Pro e magari uno medio né qua né là però saranno differenziati appunto con i rischi le novità su liquidy mining svp e svallet quindi abbiamo già due licenze sulla svallet delle diverse nelle diverse nei diversi paesi appunto per questo problema che abbiamo situazione mondiale sapete però visto che siamo in Europa non ci tocca tantissimo possiamo comprare liberamente criptoattivi quindi tra poco partirà il burning di svp svp serviranno tantissimo per partecipare nel liquidy mining di s trade quindi dovremo comprare più svp cioè scatenerà la crescita di svp quindi chi ha svp attendiamo una crescita le carte proprio carte della nostra banca che saranno prima per i partner 14% in più saranno appoggiate su si potranno usare sull'apple pay eccetera google pay quello che è ci saranno in due formati con licenze di s wallet e licenze della nostra xray che è la nostra piattaforma perché hanno un limite di solo 10.000 dollari siccome i fondatori sanno bene che molti di voi spendono molto di più e quindi avranno due carte per adesso le novità sulla cannabis per quelli che hanno investimenti sulla cannabis per quelli che non hanno in futuro potranno comprare comunque token perché azioni sono tokenizzati quindi le novità per quelli che hanno già gli investimenti nella cannabis a settembre ci sarà una nuova ondata escursione per andare a vedere tutte le piantagioni però per ripartner 15% e poi quindi abbiamo già le coltivazioni proprio basate imparate in greenhouse tunnel indoor quindi ne abbiamo tutte poi ci sarà il nostro marchio personale brand e tra poco potremmo anche assaggiare la nostra produzione che è già in distribuzione comincia la distribuzione e nei paesi dove si può acquistare ci sarà e quindi potremo acquistare poi sul secondo pool è partita la fabbrica di estrazione quindi in totale per adesso abbiamo la produzione da fumare integratori alimentari prodotti cosmetici in più come ho detto ci sarà in perspettiva quando si potranno quando si legalizzeranno la coltivazione di cannabis contenente l'HTC entreranno anche in medicina quindi è arrivata la prima partita di macchinette che vendano automaticamente poi cosa c'è ancora tra giurisdizione di DAO appunto token azioni di cui abbiamo parlato ci sarà a Panama perché solo lì c'è questo modello di business che si può fare in questo modo comunque lo sanno bene loro e studiano bene dove fare certi tipi di licenze e tra due tre settimane cominceranno arrivare i primi token nostri del secondo pool nel cannabis quindi c'è poi modernizzazione di tutte le produzioni cose come sempre poi sull'IPO cosa volevo dire le novità che si aspettano siccome non è stata molto promossa ultimamente questa direzione qua perché vedevamo che fondatori della compagnia vedevano comunque che a noi investitori interessano più le cose dove si guadagna di più e quindi siccome era un po' bassina come non era bassa effettivamente perché per questo periodo di tempo che è molto difficile con la situazione mondiale la percentuale che ha portato l'IPO era molto alta confronto le altre compagnie che sono tornate con meno però tutto ciò ci ha fatto pensare che adesso sull'IPO ci sarà una nuova gestione e ogni partner che vorrà partecipare a questa direzione avrà il proprio conto però gestiranno comunque con aiuto di loro il team di professionisti che tanti anni lavorano in questo settore però i conti saranno nostri e si gestiranno dai nostri conti così noi potremo vedere quello che sta succedendo potremo insomma avere un po' più di mano dentro e anche giuridicamente sarà molto più trasparente eccetera comunque quando ci sarà parleremo molto più dettagliamente Estrade la nostra piattaforma di scambio di criptovalute tutta la parte giuridica pienamente approvata è tutto pronto si stanno attaccando flussi finanziari di fiat quindi si potrà comprare e vendere e uscire e entrare dalle nostre carte bancarie con valuta fiat quindi si stanno proprio ultimando ultime cose che ho detto che dovevano lanciarle già ieri si vede che non è proprio facile perché parlare sì ma fare le cose è abbastanza difficile soprattutto quando hai a che fare con tutto il mondo intero dei paesi di tutto il mondo che deve fare licenze per ogni paese e quindi a giorni si lancerà la nostra piattaforma ci sarà la scuola fatta apposta un'accademia che insegnerà alle persone appunto a interagire con la piattaforma e insegnerà alle persone a fare trading a vendere comprare a guadagnare insomma in questo ambiente perché adesso ci sono veramente pochissime persone che usano queste piattaforme quindi poi dentro ci sarà robot trading ci sarà copy trading che quando uno ha la possibilità di copiare affari di qualcun altro e quindi guadagnare lo stesso della rete partner abbiamo già detto che sarà conservata tutta la vostra struttura ci sarà anche un programma di affiliazione per estrate che vi permetterà di guadagnare fino a 50% di tutte le commissioni di tutte le persone sotto di voi poi vabbè questo merita una dettagliata spiegazione che poi la faremo ovviamente quando saranno pronti tutti slide novità ci sarà una piattaforma P2P come adesso noi ci scambiamo la nostra valuta tramite i chat però ci sarà una piattaforma ufficiale dove come su Binance su altre piattaforme dove ci scambiamo le criptovalute dove compriamo criptovalute altre cose sì tutti gli strumenti che ci sono sugli altri piattaforme ci saranno e poi passiamo a una novità proprio bomba di cui io ho fatto due fotine che adesso vi faccio vedere ui sto già parlando da un'ora però questa direzione merita la vostra attenzione che è partita potete vedere magari nei vostri back office che c'è già la non si vede niente vi faccio vedere la foto di questa cosa qua è un progetto sui mobili diciamo una cosa così questo è una direzione di investimento un po' più conservativa è un po' meno aggressiva al confronto di speculazione su forex quello che stiamo facendo non dà così tanto guadagno però è una forma di conservazione di vostro denaro nei progetti cioè nell'oggetto di lusso qua già quindi ES Real Estate è stata presentata appunto sull'evento in Turchia che primo progetto si svolgerà a Bali questo che vedete voi su una foto proprio fatta direttamente nell'evento adesso vi faccio vedere altre foto mentre parlo sono delle ville ognuno qui possiamo vedere anche appartamenti ville e appartamenti ognuna di queste ville avrà la piscina questa è un'altra novità che sempre più persone giuridiche a nostra compagnia S Group vedete quasi in tutto il mondo per avere tutti i vari documentazioni licenze tutto quello che è questi blu sono già ce l'abbiamo già tutte queste compagnie qua e queste gialle sono in fase di approvazione questo che volevo dire poi ci saranno appunto queste ville qua che vedete un progetto già vero e proprio ogni villa avrà la sua piscina poi c'è una spiaggia appunto privata la più bella di Bali non privata ma è tutta questa cosa qua scende tutto questo complesso scende nella spiaggia più bella di Bali la cosa più interessante che questo pezzo di terra che sarà acquistato e non è preso in concessione come si fa di solito a Bale ma è di proprietà proprietà quindi ci saranno la possibilità di acquistare appunto appartamenti in casette di 5 piani di più alti non si possono costruire oppure 50 ville di lusso dai 71 metri fino a 150 metri quadri poi si potrà acquistare da un metro quadro quindi noi possiamo acquistare anche un metro quadro di questa villa che costeranno all'incirca dai 4.000 euro 4.000 4.000 5.000 dollari scusate sempre in dollari dipende dalla vista poi ci saranno appartamenti appunto di tre diversi tipi e si potrà guadagnare dal 25 ai 40 per cento dal momento di costruzione fino a quando è completata e poi sarà data alla compagnia che si occupa appunto gestione di questi appartamenti cosa vuol dire che se voi potete acquistare un completo cioè tutti i metri quadri di una villa intera oppure di un appartamento diventerà di vostra proprietà se voi avete investito solo nei metri quadri questa compagnia gestirà gli affitti e voi comunque traerete profitti della metratura da voi acquistata capite è una roba forte tutto il progetto ha un costo di 120 milioni di dollari che sarà appunto richiesto un pool di investimenti e avremo il tempo per riempirlo di due mesi ma nel frattempo non succederà così come con il cannabis sì abbiamo investito ma mentre aspettavamo i nostri soldi non lavoravano questa volta questi due mesi mentre il pool sarà aperto mentre si raccoglie si raccoglie i soldi lavoreranno comunque su forex e questa è una cosa molto bella quindi io ho detto più o meno tutto questa direzione è molto forte però comunque ho detto più conservativa e molto più matura rispetto a quelli che avevamo fino adesso e comunque è un progetto di nuovo di prova vediamo quanto siamo pronti agli investimenti seri e poi si vedrà anche acquistare altri oggetti negli altri poesi si parlava di Montenegro magari anche nella stessa Turchia eccetera vi faccio vedere altre fotine e poi se non avete nessuna domanda ecco questi sono foto del progetto e poi se non avete le domande ci salutiamo e andiamo a casa a mangiare io sono sempre nell'ora di cena però alcuni investono nella panza altri investono nella sostanza e questo è tutto se non avete le domande magari c'è qualcosa che non è stato chiaro oppure non lo so ci sono altre domande a cui posso rispondere risponderò volentieri se questi non ci sono io vi cioè non li vedo comunque vi augurerei una buonissima serata e tantissimi dividendi guadagni rendita passiva con un partner affidabile che è un brand già che si riconosce S Group grazie per essere stati presenti buona serata ciao ciao